No, assolutamente no, nel senso che l'esperienza amministrativa finisce lì dell'assessore, avrà modo di chiarire la sua posizione, dopodiché vedremo il giudizio finale, nella speranza che venga chiarito fino in fondo e dall'altro si va avanti, si va avanti a testa bassa, pancia a terra a realizzare le opere che abbiamo in programma.